Primi passi per il restyling della piscina comunale di Seravezza. La Giunta ha infatti approvato la proposta di variante urbanistica per consentire di realizzare modifiche finalizzate all'ampliamento dei servizi dell'impianto sportivo attraverso la creazione di tribune, un'area bar, uno spazio ristoro, servizi e un magazzino. Tutti interventi necessari per rendere maggiormente appetibile la struttura per la quale è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto. La data prevista per il nuovo appalto partirà dal prossimo 1 settembre e si protrarrà sino al 28 febbraio del 2029. L'amministrazione di Seravezza, come già anticipato dal sindaco Alessandrini durante una puntata di per contro andata in onda le scorse settimane, ha avviato anche un percorso insieme a quella di Forte dei Marmi per una sinergia tra le due amministrazioni finalizzata alla massima valorizzazione dell'impianto.